Auto contro muro nella notte a Postal e quattro feriti tra cui una ragazza ventenne di lana ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano. Il terribile schianto è avvenuto per cause in via di accertamento poco prima delle quattro sulla vecchia statale tra Merano e Bolzano. Sul posto i vigili del fuoco volontari di Postal che hanno fornito anche queste fotografie che hanno dovuto utilizzare le pinze idrauliche per liberare la giovane di lana rimasta incastrata tra le lamiere. Ricoverato con lesioni medio-gravi anche un meranese di 21 anni e al pronto soccorso dell'ospedale della città della Passire sono finiti anche gli altri due dei quattro occupanti la vettura, un 24enne e un 26enne, tutti e due slovacchi. Tutti i feriti sono stati soccorsi dalla Croce Bianca.